salve a tutti io sono martina rosella dell'associazione di vieni chi sei e questo è il format le vie della felicità qui con me oggi c'è dafna moscati e con lei parleremo di come l'arte può essere il luogo il mezzo dell'ascolto profondo ma per capire questo tema dobbiamo un po capire innanzitutto gli sei dafna perché tu forse tra le cose che emergono più di te è il fatto che tu sei un artista e quindi la prima domanda che ti voglio fare è proprio questa come hai pensato di portare nella performance art o di far di far essere la performance art uno strumento per per l'auto indagine per l'ascolto profondo grazie martina allora innanzitutto non sono un artista mi occupo di tante forme artistiche e la domanda chi sono e in generale la domanda chi sei è proprio l'origine la base la priorità ciò che ormai da più di vent'anni è al primo posto nella mia vita anche se in realtà ricordo che la prima il primo flash di questa chiamata di questa veramente passione è emersa con chiarezza già quando ero al liceo ho fatto il liceo classico studiando greco ricordo che per la prima volta quando lessi la frase ricorda chi sei ebbi proprio una folgorazione proprio senti che quella frase mi avrebbe accompagnato come angelo custode per tutta la vita e infatti è stato così quindi mi piace sempre iniziare nel distinguere ciò che siamo come spazio coscienziale come spazio esistenziale e ciò che invece svolgiamo come talento come ruolo come attori e quindi sì e uno dei miei talenti è proprio quello legato alla creatività ho esplorato tantissime forme creative per poi appassionarmi e trovare nella performance art una forma espressiva che faceva combaciare totalmente questa mia priorità introspettiva questa autoindagine questa autoconoscenza perché la performance ti permette immediatamente due cose almeno nel modo in cui l'ho esplorata il modo in cui mi piace anche proporla ti obbliga ad essere totalmente presenti in questo momento perché non è qualcosa che puoi preparare non è qualcosa che puoi programmare non è qualcosa che puoi controllare si basa sulla tua frequenza di presenza e quindi è in realtà una pratica meditativa nonostante non si definisca in questo modo in altri contesti e il secondo elemento che per me la rende così speciale come strumento di introspezione è proprio che sei obbligata ad uscire dai ruoli quindi tutto il lavoro che io faccio attraverso la performance art è lo spazio in cui tu sei te stesso è lo spazio in cui non stai interpretando un ruolo e quindi entri proprio a contatto con quello che senti con quello che ti muove con quello che ti tocca o meno in un determinato contesto in una determinata performance che appunto ogni performance poi nella mia modalità creativa è proprio un'opportunità di specchio è creare il contesto in cui possiamo specchiarci attraverso l'altro creare il contesto lo spazio il tempo per andare più in profondità dentro di noi poi dovrei raccontarti durante i performance andremo più nel dettaglio chi vuole curiosare può farlo nel sito certo la cosa l'ultima cosa che hai detto di rispecchiarsi nell'altro mi porta a un'altra domanda che già ti volevo fare che riguarda un po' come gestisci il tuo lavoro nella collettività ma come dicevi tu che è un po' probabilmente anche al di là del lavoro in sé un modo per risuonare di più se stesso anche nell'altro quindi ti volevo chiedere qual è secondo te effettivamente l'importanza del gruppo di lavoro per la tua esperienza ma in generale per questo tipo di esperienza per l'indagine della di se stessi allora innanzitutto sì per me il lavoro non è separato dalla mia priorità che è una pratica quotidiana quindi è proprio una pratica di vita nel mio lavoro è come se si unissero spesso queste due anime quella di ricercatrice autonoma quella di quella che ha per tantissimi anni e continua ad approfondire tante vie che portano alla consapevolezza di sé e l'anima dell'artista che trova crea in realtà semplicemente canalizza informazioni creazioni intuizioni ispirazioni per proporre questo strumento a livello artistico in questo senso ogni persona diventa il nostro gruppo ogni persona diventa uno strumento di lavoro quando intendo specchiarsi è proprio realizzare che l'altro è un nostro specchio in realtà è molto semplice da comprendere se riflettiamo sul fatto che noi non possiamo veramente vedere noi stessi nel momento in cui noi ci specchiamo possiamo semplicemente vedere parte del nostro specchio ma noi non possiamo vedere i nostri stessi occhi abbiamo bisogno di qualcuno che ci mostri delle parti di noi che da soli non riusciremo a vedere ed è per questo che manifestiamo davanti a noi persone che ci piacciono persone che non ci piacciono situazioni che ci fanno stare al nostro agio situazioni che non ci fanno stare al nostro agio ogni volta in cui manifestiamo una persona una situazione che ci crea diciamo disagio vuol dire che ci sta mostrando una parte di noi che grazie al poterlo vedere fuori possiamo finalmente specchiarci e vederla osservarla comprenderla così come le parti che noi apprezziamo degli altri o che gioiamo in un certo evento sono delle parti di noi che stanno cercando di manifestarsi quindi in questo senso non c'è qualcosa di buono o di sbagliato c'è solo un percepire qualsiasi manifestazione esterna come un'opportunità per noi di riconoscere delle parti di noi sia delle parti belle che ancora non siamo riusciti a manifestare fuori sia delle parti tra virgolette più fastidiose che nel non riuscire a vederle da soli abbiamo bisogno di qualcun altro che si presti nel ruolo di quell'attore di quel personaggio per mostrarci in che modo quella cosa riflette e c'è ancora dentro di noi altrimenti non ci darebbe fastidio scusa ed è molto semplice comprendere questo puoi immaginare una stessa persona una stessa situazione vissuta da dieci persone diverse queste dieci persone vivranno quella cosa in modalità diverse quella stessa situazione ad una persona la manderà fuori di testa ad un'altra persona la incuriosirà ad un'altra persona la annoierà eccetera eccetera così come un'altra persona potrà dire ah quella persona è fantastica la trovo gentilissima qualcun altro potrebbe dire ma no è troppo riservata è troppo chiusa e quell'altro ma no dice un sacco di bugie eccetera eccetera quindi in realtà noi notiamo nell'altro qualcosa che ci riguarda e il fatto che ognuno possa notare in metà a fuoco cose diverse dimostra in modo molto diretto se utilizziamo questo strumento come uno strumento di autoindagine cosa significa specchiarsi grazie per questa risposta molto molto emozionante personalmente ti volevo chiedere che tra l'altro è bellissimo che si incastrano un po' le cose che hanno risuonato in me nell'approfondire un po' la tua figura e le domande che ti voglio fare con i discorsi che fai mi veniva in mente rispetto all'ultimo discorso che hai fatto un po' il farsi canale in certi momenti per l'altro per se stessi e rispondere poi probabilmente a una certa voglia di appartenenza ad una comunità a un posto nel mondo e quindi parte da una mia curiosità questa ma penso sia una cosa molto importante per le persone che ci guarderanno e quindi mi chiedevo nella maggior parte dei casi ti è capitato più che le persone che si rivolgessero a te che si rivolgono a te che siano spinte già a partire da una grossa consapevolezza o più da un moto di curiosità che ovviamente è per l'indagine ma come hai trovato le persone più consapevoli o più curiose non che le cose siano un bene o un male allora diciamo che negli ultimi anni ci sono due categorie in realtà sono tantissime le categorie però molte persone arrivano a me perché in qualche modo riconoscono il mio talento di riconoscere i talenti quindi avendo fin da giovane in qualche modo messo a fuoco quello che io volevo fare nella vita e avendo avuto la determinazione e la costanza poi di farlo sono molto facilitata nel facilitare gli altri a tirar fuori i loro talenti è proprio qualcosa che si riconosce e quindi vengo usata per questo l'altra categoria sono persone che sono molto molto connessa ad una frequenza proprio dell'essere e quindi persone che hanno già una percezione di che cos'è uno spazio di silenzio uno spazio di connessione più ampio cosa significa appartenere metaforicamente al cielo e non alle nuvole che passano e poi c'è proprio tutta un'altra fascia di persone che vogliono manifestarsi a livello artistico anche lì ritrovano in me questo specchio di invito a creare a esprimersi in qualsiasi tipo di forma detto questo ti racconto un aneddoto rispetto all'appartenenza e rispetto ai curiosi o chi è più già avanti nel cammino in realtà per me non esiste un avanti o indietro nel cammino esiste un momento in cui scegliamo di dedicarci a quello con più intensità o meno intensità perché in realtà tutti non c'è essere su questa terra che non ha il profondo desiderio di vivere in pace nella gioia nella meraviglia nella bellezza e questo è il cammino della coscienza rientrare a conoscere se stessi porta a questo e non c'è nessuno che non sta cercando questo c'è chi ha l'esigenza di entrare in questo tipo di cammino con più forza nel momento in cui piano a crisi questo è sicuramente un grande alleato un dolore un lutto sono dei momenti in cui la vita è così generosa da darci un grande cambiamento un grande scossone proprio per permetterci di fare un salto più forte dentro di noi però mi sono trovata a parlare a condividermi in contesti davanti a Pratè molto molto diverse e mi torna in mente uno dei contesti più strani dove sono state invitate ed era un evento culturale del Rotary Club una delle città italiane che non nomino e sicuramente se uno pensa al Rotary Club non pensa ad una cerchia di persone prioritariamente legate magari ad un certo tipo di pratiche meditative introspettive o comunque questa non era la mia idea in quel momento e la persona che mi ha invitata era abbastanza preoccupata perché mi conosceva aveva letto il mio libro perché mi ha mosso una scimmia l'aveva molto amato quindi mi aveva invitato in proprio modo a presentare questo libro però era un po' spaventato perché mi continuava a dire guarda Daphne che questa non è la tua platea non sono ricercatori non sono artisti non sono curiosi delle indagini eccetera e io gli dissi lo tranquillità dicendolo che io alla fine quello che portavo era un andare più a fondo nel permetterci di percepire l'amore nel permetterci proprio nel permetterci di ampliare questo spazio di amore e ricordo che si azzitti nel senso mi dissi non può esserci non può non esserci qualcuno non interessato a quello e in effetti quello che accadde è che il pubblico si è divisa in due e persone che dopo un po' erano commosse erano veramente entrate totalmente in quel tipo di intervento in quel tipo di conferenza diciamo ed altre iniziavano ad essere imbarazzate e quindi guardavano in basso guardavano l'orologio ma non perché non fosse per loro perché si stavano toccando dei punti molto intimi e quindi inevitabilmente sia chi era commosso chi guardava l'ora era stato toccato da qualcosa in questo quindi non è possibile veramente dividere la categoria delle persone che arrivano grazie a questo punto ti vorrei fare un'ultima domanda che non vorrei che fosse in qualche modo divisiva assolutamente però potrebbe potrebbe darci qualcosa qualcosa in più ovviamente rispetto al tuo punto di vista e quindi ti vorrei chiedere il tuo essere donna nel tuo lavoro ripeto però c'è appena spiegato che che non si tratta mai solo di lavoro e dà qualcosa pensi che abbia dato qualcosa in più sia il tuo percorso di di realizzazione quindi spostando un pochino il punto di vista del visto che si parla appunto di le vie della felicità quindi il tuo percorso di realizzazione come donna in primis e poi quello che fai nel tuo lavoro guarda è buffo che mi chiedi questa cosa proprio oggi perché prima della nostra intervista ho terminato una rubrica su youtube che si chiama il diario di una ricercatrice dove ogni settimana racconto quali sono i temi che mi sono più a cuore e il tema di oggi era legato alla gallina bionda nel senso che era legato a quelle idee che spesso abbiamo di un femminile verso il quale abbiamo spesso molti pregiudizi quindi magari essere sempre stata associata ad una figura di una donna comunque in carriera riuscita autonoma intelligente in che modo può combaciare con l'idea del femminile della diciamo così gallina bionda perché il tema della integrazione delle qualità maschili e femminili a prescindere dal nostro sesso di nascita è uno dei temi fondamentali che ho tratto nel mio lavoro perché siamo proprio chiamati ad integrare queste frequenze e proprio oggi raccontavo che nel femminile esistono tanti archetipi esistono gli archetipi delle idee indipendenti esistono gli archetipi delle idee dipendenti esiste l'archetipo alchemico che è quello di venere ognuno di questi archetipi se pensiamo ad Atene è la dea legata alla saggezza legata alla determinazione quindi a portare avanti un progetto Artemide la dea della caccia che quindi sfida se stessa oltre ogni limite quindi sempre portata ad andare avanti ma anche legata al sociale c'è la figura della madre della figlia c'è est legata all'interiorità è un discorso molto molto bello il punto è che tutte queste frequenze appartengono al femminile e siamo chiamate ad integrarle in che modo integriamo nel femminile queste frequenze e questo è un compito meraviglioso così come il maschile ha bisogno di integrare tutta una serie di archetipi di frequenze così il femminile quello che mi sono resa conto è che più sono andata avanti più vado avanti nella mia ricerca interiore e nel mio lavoro più tutte queste qualità richiedono di essere manifestate ed integrate e quindi ad esempio in questo periodo sto approfondendo molto di più rispetto ad altri anni ad altri momenti della mia carriera un aspetto più della gallina bionda cosa intendo intendo un aspetto più di servizio di lentezza di compiacere di frivolezza di neutralità è molto molto interessante in che modo nella nostra via della felicità questi aspetti vanno tutti integrati accolti per ognuno di questi c'è un momento per attivare quell'energia ma senza squilibrarla l'intento è comprendere quanto incarniamo tutte queste idee già dentro di noi quanto le stiamo manifestando senza polarizzarci in un femminile che poi diventa troppo maschile o in un femminile che diventa poi troppo in quelle femminile che diventa non che non onora se stesso quindi è proprio questo bilanciamento tra il femminile indipendente il femminile dipendente ma in un modo sano un femminile quindi che si mette al servizio da madre da moglie da figlia da venere quindi è proprio al servizio della bellezza un discorso ampissimo però ecco il mio essere donna è semplicemente ancora è ancora uno strumento che mi sta permettendo di indagare come essere al servizio come donna in tutte le frequenze del femminile grazie mille per questa risposta sarebbe bellissimo approfondire un altro discorso sugli archetipi perché questa cosa è interessantissimo ma per adesso ti ringrazio tanto e spero che chi ci guarderà saprà cogliere qualche spunto per la propria via della felicità intanto grazie a presto buon proseguimento di giornata ciao grazie ciao